C'è questa doppia motivazione per la quale noi siamo grati che la conferenza stampa di Contemporary Art si svolga qui. Da una parte il fatto che si svolga in un quartiere della periferia, le Vallette, quindi questo manifesta la volontà di concepire la città come una città policentrica e dall'altra che proprio si svolga qui all'Officina Chaos dove, come fra l'altro abbiamo avuto modo di mostrarvi all'ingresso con il programma del Festival Differente Sensazione, la trentesima edizione di un festival che è dedicato proprio alle arti contemporanee dello spettacolo. È un luogo che ha appunto questa specificità e quindi è molto affine a Contemporary Art e ne fa parte. Nel 1999 si era nel pieno del periodo di riqualificazione delle periferie, si aprirono parecchi canteri, vennero fatti tanti piani di rigenerazione urbana e la città cominciò a cambiare volto nelle periferie in quel periodo e le luci d'artista furono un simbolo di questo percorso. Io auspico che sia anche questa installazione del 2017 un simbolo per verificare la progettazione, per verificare ciò che verrà fatto di riqualificazione, di impegno così come è stato dichiarato dall'amministrazione comunale nelle nostre periferie. Il novembre dell'arte contemporanea, il progetto Contemporary Art Torino-Piemonte è un progetto che parla di contemporaneo, non c'è solo l'arte, c'è la musica, c'è la danza, c'è il teatro, è un mese in cui la Torino del contemporaneo si svela a tutta la città, ai turisti ed è un momento importante che segna anche un'identità della nostra città su cui pensiamo sia importante ragionare insieme per il futuro. Su questo ragionamento comincerà il 4 novembre ad altissima, a cui abbiamo chiamato a partecipare e chiameremo a partecipare tutti i soggetti che sono interessati all'arte contemporanea e forse ancora di più all'innovazione, alla contemporaneità e a come quale sarà il futuro del contemporaneo nella nostra città. È solo un calcio d'inizio a cui seguiranno poi, seguirà un lavoro di studio che ci permetterà poi di darci tutti insieme dei nuovi obiettivi per il futuro. La regione Piemonte, quindi non certo, da credo 30 anni investe in arte contemporanea, quindi è una delle regioni che ha mostrato maggior attenzione a questo settore. Pensate alla visionarietà del Castello di Rivoli, che è stato fatto in anni e che per questo è riconosciuto a livello internazionale, ma credo che la particolarità della regione è che su questo terreno continua a essere molto vitale, molto molto vitale, non solo di nuovo merito iniziativa dell'ente pubblico. Mi fa, per esempio, una cosa che trovo interessante è che i nostri produttori vitivinicli investano in arte contemporanea. La Torino-Piemonte-Contemporary Card, che è una cosa che abbiamo creato insieme a Turismo Torino e che è rivolta soprattutto al turismo, quindi all'interno sono molto felice, c'è anche le OGR, quindi diciamo che i nostri turisti potranno venire in città o in Piemonte e utilizzare questa carta per visitare qualsiasi luogo e qualsiasi mostra. L'altra cosa che abbiamo fortemente voluto quest'anno è questa navetta che collegherà tutti i luoghi dell'arte contemporanea in questo weekend. Si chiama The Free Art Shuttle ed è composta da due linee che girano continuamente collegandolo a tutti i vari luoghi in cui si svolgono delle manifestazioni. La Fondazione CRT fin dal primo giorno ha creduto in questa via di intervento che riguarda l'Ucid Artista, riguarda Contemporary eccetera. E ormai questi due momenti sono diventati, come dicevate, un frammento dell'identità della città. E dunque quando un evento diventa frammento di identitario, diventa importante, va rispettato e fa parte della comunità. fa parte della comunità, vuol dire però, da un lato incide sulla qualità della vita della comunità del territorio, perché stiamo parlando, lucida artista, ma anche di, come dire, momenti che migliorano la qualità della vita. Nel contempo hanno una forte capacità attrattiva e dunque questa è la ricaduta di cui parlava Antonella per il territorio, ma più che tutto, come dire, incidono su quello che è il tessuto creativo della città. Irene ormai è da un ventennio appunto che è presente fin dall'inizio in questa manifestazione importante che però, devo dire, ha saputo rinnovarsi sia sotto l'aspetto della sostenibilità che sotto l'aspetto dello sviluppo. Sotto l'aspetto della sostenibilità perché ricordo che ormai le 400.000 sorgenti luminose sono tutte a LED e quindi questo consente un risparmio di energia di circa il 70%. Pensate che la potenza impegnata per tutte le luci d'artista di Torino è circa 150 kilowatt che corrispondono più o meno a 30 appartamenti, 30-40 appartamenti. Quindi questo è molto importante. Altro tema che invece riguarda lo sviluppo, noi giriamo sovente l'Italia per attività industriali e la manifestazione di Torino è diventata veramente di rilievo nazionale e anche internazionale e tutti i comuni verso i quali ci approcciamo per motivi diversi ci chiedono di poter avere anche loro delle opere relative alle luci d'artista. In alcuni casi invece siamo stati proprio protagonisti anche dello sviluppo di portare questa realtà artistica e tecnologica in alcune città importanti e qui ci tengo a citarle tutte perché oltre a Torino c'è Salerno, Asti, Genova, Portici, Pompei, Latina, Pescara e all'estero Bruxelles, Barcellona, Lisbona, Marsiglia, una che in Germania mi chiedono tutti e Lione. Credo che la valenza del tornare a diffondere sul territorio sia un po' nel concetto di cui si è discusso più volte di avviare delle riqualificazioni, riprendendo i temi del Presidente Novello, che si basano sì su interventi materiali ma anche su interventi immateriali. Mi è molto stupito, circa un mesetto fa ero proprio qui e ho incontrato un gruppo di giovani che mi hanno raccontato di come cercano di occuparsi in senso ovviamente positivo del proprio territorio, del proprio quartiere e so bene che in questo quartiere lo conosce sicuramente meglio di me il Presidente, c'è un senso di orgoglio, di appartenenza che è un qualcosa che noi come amministrazioni dobbiamo essere in grado di riconoscere e far valere come motore di sviluppo del territorio e quando questi ragazzi, sono giovani, non so se sono qui oggi, non vedo la platea, ma quando questi ragazzi mi hanno raccontato dell'esperienza che fanno sul territorio, ci siamo tutti chiesti come effettivamente al di là dell'intervento materiale che può essere sistemare dei sanpietrini o ovviamente intervenire pulendo un'area, come a questo si possono accompagnare interventi immateriali. Ero qui fuori, c'erano due signore che mi hanno detto quando sono arrivata, a noi dispiace vedere che sono stati fatti degli investimenti, anni passati ad esempio la Fontana è stata vandalizzata, comunque sono stati in interventi e quindi l'intervento stesso che viene fatto poi non rimane in modo permanente sul territorio, perché non rimane, dicevano queste signore, perché noi non siamo in grado noi di avere un senso civico tale per cui sentiamo il luogo come nostro e quindi in qualche modo lo rispettiamo. Io credo che qui ci sia davvero e io voglio ringraziare tutte le associazioni, i comitati, le persone che amano il proprio quartiere, che si mettono in gioco e curano il proprio quartiere. Quindi quello che vuole essere oggi l'installazione di una luce è ovviamente un segnale di attenzione perché riteniamo che anche questo quartiere debba avere dignità e debba avere delle luci che rappresentano anche questo, ma soprattutto si deve accompagnare un percorso di riqualificazione materiale ma anche immateriale, perché se noi pensiamo che ogni volta stanziamo delle risorse, mettiamo a posto una panchina e tre giorni dopo viene vendalizzata, non credo che stiamo facendo un buon servizio alla nostra comunità. E qui devo dire c'è veramente questo senso forte di appartenenza e di voglia di vedere il proprio territorio qualificato, riqualificato, con grande senso di appartenenza. Quindi sono tutti gli ingredienti per poter fare bene e sono sicura che anche in questo senso la circoscrizione ci aiuterà nel fare gli interventi che potremmo fare. Quindi io ringrazio tutti e tutte per la storia, perché oggi ribadisco è un ventennale, un decennale, quindi siamo qui perché ci sono delle persone, prima di noi, che ci hanno lavorato e hanno creduto in questo progetto. La circoscrizione, tutti i nostri partner che sono qui con noi oggi sono stati in passato e lo saranno, credo, anche in futuro, non lo metto in dubbio. Domani sapete, accenderemo le luci in via di Nanni, quindi un altro luogo che sappiamo avere anche delle difficoltà e speriamo che questo possa essere un momento anche di appunto pensiero e di sviluppo in senso proprio di dialogo rispetto a quello che potranno essere gli interventi che verranno fatti in futuro. Quindi grazie a tutti e a tutte di essere qui.